Namaste sono Ace the Brave e bentornati ad un altro episodio di Isaac di The Binding of Isaac Afterbirth Plus commentiamo un po' delle mie partite in questo postaccio e vediamo un po' che cosa riusciamo a fare oggi è una partita con Keeper, dobbiamo cercare di finire la sua parte, la sua completion mark quindi vediamo un po' e iniziamo con Death's Touch dopo un paio di retrai che ho fatto semplicemente per iniziare almeno con un oggetto quindi vediamo un po' che cosa riusciamo a fare, so che Isaac vi è mancato molto e io ho registrato una decina di episodi senza commentarli quindi li sentirete in post commento proprio adesso e andrò a pubblicarli insieme agli altri video che faccio uscire invece alle 4 del pomeriggio così avete insomma un pochino di materiale per quanto riguarda Isaac e poi torneranno invece avendo il tempo a disposizione mi piacerebbe appunto ritornare a fare un Isaac giornaliero o comunque un episodio di ogni tanto vediamo intanto di nei prossimi 10 giorni insomma ci avete 10 episodi quindi vediamo pure di farli e eventualmente salterò qualche giorno qua e là perché semplicemente non ho avuto il tempo di registrare visto che ho un lavoro che veramente mi sta portando via, cioè mi porta via tempo e mi impegna parecchio della giornata quindi non sono sicuro se riesco a fare tutto quanto, non posso più registrare così tanti video al giorno insomma però cerchiamo pure di sconfiggere il primo bonus che per fortuna ci dà toothpicks quindi vuol dire che spariamo più velocemente che è una cosa molto utile per il signor Keeper e ce la dobbiamo prendere con calma perché dobbiamo semplicemente arrivare alla fine e sbloccare insomma tante tante altre cose di Keeper, vediamo un po' se ci riusciamo incrociamo le dita perché dobbiamo cercare di fare del nostro meglio, questa è una run appunto in cui cerchiamo di fare del nostro meglio e vediamo un po' che cosa ci capita per adesso con il triplo colpo di Keeper e il fatto che abbiamo Death's Touch, direi che siamo abbastanza tranquilli e vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare è un bel po' che non vedevo, non giocavo a Isaac, un po' di giorni che non ci ho giocato effettivamente adesso sto registrando quando è già uscito il Booster Pack 3 se non sbaglio mentre questi video sono stati registrati che doveva ancora uscire il primo Booster Pack, forse era uscito solo il primo quindi tanti altri oggetti che vedrete a partire appunto da l'episodio, tra dieci episodi circa insomma quando tornerò a registrare dopo questo, credo di aver registrato fino all'episodio 83 se non dico una balla ma comunque lo capirete fino a che episodio perché l'episodio successivo andrò a dire guardate ho registrato questi episodi dopo e quindi molto molto interessante vediamo di andare a cercarci la stanza dorata che dobbiamo ancora trovarla e per adesso abbiamo trovato comunque degli oggetti molto interessanti perché è sicuramente un buon inizio vediamo un po' di spaccare un po' di culi a questi, attenzione a non morire abbiamo la possibilità di comprare l'abito, è una cosa molto utile prendere l'abito con Keeper perché mi vuol dire che genereremo molta roba e anche prendere, merita sicuramente prendere anche Cricket Zed per fortuna recuperiamo l'energia ci siamo giucciati il patto col diavolo ma il patto col diavolo con Keeper mi interessa molto poco però avere un bonus all'attacco con la testa di Cricket direi che non è niente niente male ovviamente se vi piace il video, se vi piace Isaac ma soprattutto se vi piacciono i miei video in generale ditemelo come vi piace che è sempre la cosa che aiuta il canale e aiuta 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 anche a condividere i video, cosa che viene fatta ancora un po' troppo poco però mi piacerebbe ci fosse di più, il patto col diavolo ce l'abbiamo avuto lo stesso possiamo eventualmente prendere Betrayal, è abbastanza gratuito però non so perché non l'abbia preso in questo caso perché intanto c'era Old Bandage che potevo prendere però va bene lo stesso, magari riusciamo a trovare un patto con l'angelo e quella è una cosa sicuramente più positiva che continuare a prendere patti col diavolo con Keeper andiamo pure ad andare avanti oh bene bene bene, tra l'altro appunto vi posso approfittare di questi video che registro in post commentary per raccontarvi anche un po' come sta andando in questo periodo qui siamo al fine di luglio quando sto registrando in realtà questo video e più o meno i successivi li registrerò se non di seguito a questo abbastanza vicini perché ho un pochino più di tempo a disposizione anche se non sono in ferie Dead Onion molto interessante perché ci rallenta parecchio ma ci fa diventare anche più grandi le nostre lacrime appunto in questo periodo non sono ancora in ferie, le ferie ce le avrò a giugno ma non avrò tempo per registrare perché vado in ferie quindi non userò neanche il computer però devo dire che sta andando molto bene, mi sto divertendo tantissimo quello è un oggetto nuovo come potete vedere che non so se abbiate mai visto quel tipo di carta che adesso è stato sostituito da BFF però dicevo appunto me la sto cavando abbastanza bene e sono riuscito a registrare praticamente tre serie complete che starete vedendo in questo periodo se non nei mesi successivi ho portato a conclusione alcune delle serie da lungo tempo insomma cerco di come piano d'attacco per il canale sto cercando di concentrarmi sulle serie che ho iniziato e che voglio portare a termine complete in modo da non lasciare nulla in sospeso non per chiudere il canale assolutamente ma perché mi piace un po' il senso di completezza che c'è nel finire un let's play è una cosa che io ho sempre adorato appunto è un progetto finito che mi interessa arrivare a un progetto finito ottimo che abbiamo anche Squeezy Squeezy è un'altra cosa interessante per me fa sparare più veloce anche se è solo a 23 e quindi insomma ho registrato uno, due, tre, quattro let's play completi che starete vedendo in questo periodo in più dovrò anche cominciare a lavorare se vi ricordate io ho sempre parlato di un documentario sul canale e comincerò diciamo che questo lavoro qui di chiusura di alcune serie mi serve un pochino a mettere un po' ordine nel canale per poter continuare e cominciare a ultimare le lavorazioni per quello che sarà il documentario questo secondo me è una cosa molto interessante soprattutto per i nuovi arrivati appunto che non conoscono i dieci anni praticamente del canale quindi è un modo per far conoscere, riportare delle serie vecchie farvi conoscere insomma cosa ho fatto io sul mio canale perché molti sono arrivati con Isaac e quindi pensano che io faccia solo Isaac invece non è vero, anzi c'è molto molto di più ci sono oltre 100 let's play che già cominciano ad arrivare intorno ai 200 se andiamo avanti di questo grado e insomma mi fa piacere che ci sia questa cosa questa cosa qua non l'ho fatta per nessun motivo particolare ma semplicemente perché ci sono un casino di soldi se dovessimo trovare un modo per volare merita tornare indietro ma per adesso non è così il rib of green è molto molto interessante in realtà come oggetto possiamo anche portarcelo dietro oppure ci portiamo store key abbiamo ancora troppe poche chiavi quindi conviene che torniamo indietro andiamo ad aprire almeno il non è il negozio quello quindi apriamo con due di queste questo come vedete adesso abbiamo il dado che ci dice che questa stanza ha l'effetto del D10 quindi rilolla ciò che c'è per terra però direi che con un così tanti soldi meglio non bypassare questa cosa e vediamo un po' di continuare la nostra strada nel negozio c'era qualcosa di interessante c'era BFF che però non stiamo non stiamo utilizzando di insomma maniera ma costava zero se non mi ricordo male e se no ci sarebbe quell'oggetto nuovo che potrei provare se no cambiamo tutto e possiamo prendere ancora qualcosa no quello non mi interessa oh tarot clot lo prendo quasi sempre quindi meglio prenderlo pure abbiamo la carta della luna che non mi serve prendiamo strength quando lo usiamo ha doppio effetto quindi vuol dire che le nostre lacrime diventeranno gigantesche e vediamo di avviarci verso il boss di questo livello qua che è il signor nessuno perché l'abbiamo già battuto andiamo pure al prossimo piano volevo vedere se eravate attenti siamo a caves 2 vediamo un po' che cosa combiniamo lì c'è anche quello per poter cambiare l'aspetto appunto che è stato aggiunto ultimamente con i booster pack e vediamo un po' dove riusciamo ad andare io approfitto anche per vedere effettivamente quanto dura questo video dura un bel po' quindi sapete già che arriverò fino a un certo punto e vediamo un po' se sono abbastanza bravo da poterci da poter commentare insomma per un po' più un pochino più di tempo quindi intanto vediamo di uccidere un po' di gente abbiamo una doppia pillola anzi una pillola sola in realtà che mi da un full health che però non serve a niente praticamente e vediamo di continuare per la nostra strada ovviamente io quando commento in post produzione sono stupido io a volte perché registro ho voglia di registrare il video ma non ho la possibilità di registrarlo perché fondamentalmente non posso fare rumore a determinate ore del giorno io mi metto a registrarlo stesso tanto dico dopo registrerò l'audio sopra invece è una cosa molto brutta in realtà non perché sia non perché non non si è un po' è un po' più cose che tu parli a mente perché è una palla sinceramente registrare in post produzione per il semplice fatto che io devo riguardarmi ciò che ho già registrato quindi è un po' faticoso diciamo come cosa però 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 mi da la possibilità di andare a improvvisare un pochino e raccontarvi anche delle storie che non c'entrano assolutamente niente con quello che state vedendo in modo da darvi ancora più contenuto quindi avrete cerco comunque di farvi piacere una cosa che magari non piace a tutti cioè quello di avere il commento post produzione anche se in realtà non è che vari più di tanto perché molto spesso vado a registrare l'audio di video che non mi ricordo più di aver registrato quindi per me le reazioni che ho quando succedono alcune cose sono molto più genuine e quindi direi che non c'è alla fine non c'è tanta differenza tra me che registro in diretta o no l'unica differenza è che non dovrei farlo semplicemente perché mi fa quasi perdere tempo registrarli riguardarlo riregistrare la voce sopra ma a volte bisogna fare così perché se no non avrete neanche il video a volte è anche necessario come succede ad esempio intanto qua possiamo ucciderci all'infinito se possiamo fare così in modo che possiamo guadagnare un sacco di soldi praticamente perché ogni tanto salta fuori una moneta che vale un po' di più e contemporaneamente se lo facciamo esplodere abbiamo un hp in più che potrebbe andare a braccetto con un eventuale patto col diavolo e la cosa interessante è che non sto facendo in realtà è che abbiamo l'abito quindi io ogni volta potrei anche usare l'oggetto ma non lo sto facendo purtroppo perché in questo caso sono pirla facciamo un po' di roba retroattiva avrei potuto usare l'oggetto quindi avrei potuto guadagnare il doppio dei soldi in sostanza o se no una volta e mezza semplicemente perché siamo figli quindi andiamo avanti così ci prendiamo la moneta e adesso mi accorgo di questa cosa? si mi accorgo di questa cosa quindi adesso comincerò a usare la cosa speciale sto cercando di capire com'è il ciclo e quindi stiamo guadagnando un sacco di soldi in questa maniera ok finalmente abbiamo il nostro HP in più abbiamo fatto 55 monete vediamo pure di andare contro il boss magari ci verrà dato qualcosa di più interessante ma direi che con le moschicina che abbiamo generato direi che siamo belli che tranquilli perché se non salutare Gourdi così Gourdi ci lascia un patto con l'angelo molto interessante che è The Soul quindi perfetto proprio per la situazione perché il keeper ha sempre un pochino di problemi abbiamo Regeneration Bloodbag che non servono a niente semplicemente adesso siamo ancora più belli carini e cucolosi da vedere e vediamo dove possiamo andare dobbiamo ancora aprire la stanza dorata tra l'altro tra tutto sto casino quindi adesso vediamo di farlo e vediamo di trovare qualcosa di interessante qua dentro che è Spider Bite quindi abbiamo anche l'effetto Slow quindi alcune delle nostre cose saranno così quello è Sharp Plug che non voglio prendere per non incasinare troppo le cose ma se prendevo Sharp Plug in questo momento penso che Sharp Plug più più l'abito voglia dire soldi infiniti una cosa del genere comunque non ho voluto esagerare visto che a volte mi sono anche ucciso con Sharp Plug vorrei evitare di farlo in un momento di crisi quindi andiamo pure avanti e cerchiamo di fare del nostro meglio giù a Necropolis 1 stanza con la A gigante a quanto pare quindi molto bella da vedere ma anche poco utile anche se in realtà c'erano bombe infinite là dentro quindi magari dopo ci andiamo però intanto vediamo di esplorare un po' il livello tra l'altro c'è la possibilità che torni anche anti-birth c'è la possibilità insomma ditemi anche voi cosa ne pensate cosa vorreste vedere cosa non vorreste vedere qua avevo bisogno effettivamente di una bomba quindi usiamola pure in modo che ci recuperiamo tutte le mosche del mondo che sarebbero cuore spirituale ma in questo caso diventano mosche e vediamo di continuare ad andare giù 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 tra l'altro se non sbaglio il fatto che noi abbiamo queste mosche intorno prima se vi ricordate stavo perdendo energia e mi stavano venendo su mosche ogni tanto non so se sia l'effetto di visto che c'entra con i cuori spirituali visto che siamo con keeper e i cuori spirituali diventano mosche non so se sia l'effetto di addirittura placenta ogni tanto cerca di darmi energia e non riesce a darmela e quindi mi da una mosca anziché darmi energia oppure è qualcos'altro tipo però tra gli oggetti che ho non c'è nessuno di quelli che mi fa dire questa cosa forse hive mind però l'ho preso dopo quindi non è che abbia tanto senso questa cosa vediamo di continuare non vedo niente in questo momento ma va bene lo stesso siamo meno uno di luck altro status molto importante altro statistica molto importante in realtà quella della fortuna soprattutto con keeper che parte molto svantaggiato ma è lo sfigato del gruppo keeper quindi vediamo pure di andare avanti e cerchiamo di combinare qualcos'altro via con questo via con questo dicevo a volte è necessario il commento di post-produzione così come lo è sulla lunga guerra perché se commentassi cioè di solito i video della lunga guerra mi richiedono giorni di registrazione quindi mi tocca far ripartire la registrazione a volte dura due ore una sessione che poi vado a tagliare montare eccetera è abbastanza difficile tenere un commento e poi doverlo spezzare di volta in volta quindi o preferisco diciamo che in quel caso lì visto che il montaggio è molto lungo preferisco andare a montare tutto quanto e poi magari commentare sopra oppure fare un pochino un po' e un po' nel senso che alcuni pezzi sono commentati in post-produzione e altri invece sono in diretta perché ho avuto la possibilità di farlo però insomma è una cosa che varia varia parecchio e di sicuro non sono uno che non lascia un video non commentato ho provato a farlo delle volte ma non ha non ha il minimo senso nel senso che voi siete qua sì per guardare il gioco ma anche e soprattutto perché se no se lo giochereste basta per conto vostro per vedere le mie disavventure e la mia esperienza di gioco e quindi io sono qua proprio a darvela perché 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 vi piace fondamentalmente andiamo contro il signor grid che trishottiamo dopo tre colpetti vediamo di prenderci ancora un po' di soldini che andremo a spendere in un possibile negozio non questo perché non c'era e vediamo di continuare ancora avanti siamo più o meno a metà del video quando io sono a metà dei video mi viene sonno perché l'altra cosa brutta purtroppo di registrare in post produzione a questi orari soprattutto è che non ho le energie per poterlo fare quindi cerco insomma di fare del mio meglio comunque per mantenere una cosa passabile insomma per commento vediamo pure di prendere damage up con un altro più 098 e ce ne andiamo giù a necropolis 2 necropolis 2 necropolis 2 la vendetta vediamo un po' che cosa ci capita au solita energia che mi ciucciano come niente sto cercando di generare un po' di monete per curarmi per adesso niente eccola qua quella che mi serve qua dentro c'è uh tre libri quindi vuol dire che prenderemo la trasformazione in bookworm quindi adesso ogni tanto spariamo 6 di queste di queste falci quindi molto bene scappa 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 e attacca nel questo così abbiamo un'altra chiave per noi ottimo che abbiamo anche bookworm quindi ogni tanto spariamo un macello di falci tutta quanta assieme neanche fossimo a mettere nieti terebbia questo è inevitabile purtroppo per la nostra velocità quindi cerchiamo di andare ancora più avanti ad esempio andando da questo lato qui spattacchiamo un po' questo vediamo che cosa c'è qua sotto qui sopra anzi sapete cosa vi dico probabilmente andrò a pubblicare questi video non proprio tutti i giorni in seguito ma ogni quanto lo registro qua siamo a fine luglio e quindi lo vedrete in realtà tra un paio di giorni tenendo conto che devo renderizzarlo eccetera quindi cercherò di pubblicarlo prima ma poi ci sarà magari un gap di un paio di giorni dal prossimo episodio così man mano che le registro e mi porto in pare diciamo riuscite comunque a avere un po' di contenuto di Isaac che molti di voi lo richiedono a gran voce e siete anche un po' spariti che è la cosa un po' brutta di Youtube che se non dai al pubblico esattamente ciò che ti chiede c'è un bel po' di concorrenza diciamo anche se del tipo di contenuto che faccio io ce n'è poco in realtà su Youtube è un contenuto di nicchia soprattutto ma non è per vantarmi anzi sono molto molto tranquillo quando lo dico è un contenuto di tipo molto diverso rispetto alla norma insomma qua su Youtube Italia soprattutto vediamo pure di andare qua dentro qua dentro ci possiamo riprendere store key oppure possiamo prenderci uno degli altri l'altro è Dean Bulb che mi dà un bonus di 5 e di 2 al danno quindi molto bene Dean Bulb funziona se non abbiamo cuori rossi e noi non abbiamo effettivamente cuori rossi quindi assolutamente da prendere questa cosa che tra l'altro si è un po' difficile da capire come funziona perché sembra quasi baggata con con il nostro personaggio perché deve essere deve avere utilizzato deve avere il potere scarico se non sbaglio perché funzioni non so se sia sempre così ma è così per keepere insomma quindi deve avere il potere scarico e quindi si becca il suo bonus ci prendiamo la polaroid andiamo a fare boss rush ci sarebbe una cosa molto interessante ma il nostro obiettivo è altro quindi andiamo pure giù a utero in questo caso scar bomb e vediamo pure di trovare il primo boss qua sotto sperando che sia interessante se no anche se non è interessante sarà qualcos'altro super pride super pride lo uccidiamo in un attimo quindi praticamente vi godrete qualche video di isaac così sparso a pioggia con come fa il tipino della meme col sale che mette il bracino tutto bitorsoluto tutto quanto piegato vediamo pure di andare giù di qua e spacchiamo un po' di culi intanto come potete vedere ci sono un po' di link sullo schermo devo ancora cambiarle in realtà questa grafica perché si c'è il canale di tube si c'è la campanella che potete mettere si c'è twitter si c'è tutto quanto l'unica cosa che è un pochino cambiata è il fatto che hitbox quello che vedete adesso non è a parte che non sto più facendo live in questo periodo qua ma le vedrete insomma tornare quando ci sarà la possibilità di farlo è cambiato il servizio non si chiama più hitbox ma si chiama smashcast adesso e il canale è rimasto sempre là è sempre molto interessante e ho la possibilità ancora di fare delle live ci sarà la possibilità di farle più avanti quando cambierò connessione fondamentalmente e che non è una cosa male anzi spero spero di poter darvi un po' di retroscena interessante proprio tramite le live vediamo pure di prenderci crackjacks che mi da che cosa airpin è un non so se l'abbiamo mai preso ma è un trinchetto appunto nuovo dei booster pack e vediamo pure di andare giù quindi appunto vi ricordo appunto che c'è stato smashcast che ha sostituito hitbox perché diciamo hanno cambiato nome per il semplice fatto che per due motivi uno è un'acquisizione appunto di compagnie quindi appunto ha cambiato nome ma hitbox era molto molto generico come nome quindi era anche abbastanza difficile da pulcizzare da renderlo come brand a livello di marketing era un po' difficile da trattare e quindi hanno fatto questa modifica il canale comunque c'è ha cambiato logo e tutto quanto quindi se volete iscrivervi è un altro di metodi che avete per potermi supportare so che non faccio live in questo periodo quindi non sono non riesco ad essere tanto attivo appunto con la pubblicazione dei video anzi non ne sto facendo da un po' di mesi a questa parte ma se volete avete un'altra maniera per supportarmi il link lo trovate sempre nelle descrizioni dei video così come trovate altri metodi per supportarmi con anche le ricariche paypal che non fanno mai male qua c'è un bel restock che possiamo comprare tranquillamente purtroppo siamo un po' troppo tardi effettivamente per restock visto che siamo qua ma se andiamo giù da hash diventa una cosa molto molto interessante perché abbiamo un sacco di soldi e hash ha un negozio quindi potrebbe essere utile proprio in quel caso lì l'abitudine che sto prendendo è quella di usare il potere all'inizio di una stanza in modo da guadagnare il bonus dato da dim bulb ma vediamo di continuare giù di qua e vediamo che cosa riusciamo a fare in questo caso non ho usato il potere ma chi se ne frega tanto sono abbastanza forte lo stesso è comunque una run bella piena di danno come potete vedere non credo di avere troppi problemi mi ha lasciato pure una cosa con Abel Abel è il nostro amichetto allo specchio quindi possiamo continuare a spattaccare questo po' non è blastocist mi ricordo più come schiava vabbè non importa andiamo pure ad andare avanti e andiamo giù di qua dove dovrebbe esserci in teoria il boss fa molto meglio usare il potere appena ne abbiamo possibilità ma andiamo pure giù ancora perché effettivamente spariamo molto più veloce spariamo a 13 che è semi normale come cosa anziché a 21 che è tantissimo andiamo pure contro it leaves adesso e vediamo un po' se riusciamo a combinare tra l'altro avevamo scolex prima che è uno dei boss che odio di più non è uno dei più difficili assolutamente ma lo odio semplicemente perché è fastidioso se non avete la combinazione giusta è un casino affrontarlo qua siamo riusciti a non prendersi danno andiamo a prenderci holy grail che mi fa volare non è il massimo della vita ma almeno mi fa volare ecco quello si possiamo andare anche giù contro hash facciamolo facciamolo perché abbiamo restock quindi vuol dire che possiamo comprare un casino di roba quindi andiamo prima di qua qua c'è una cosa molto interessante vediamo di qua che cosa c'è c'è robo baby e una experimental treatment qua c'è il D1 e dry baby dry baby ce lo prendiamo che tra l'altro è grande e grosso qua possiamo prendere la car battery il mystery gift che possiamo usare per prenderci champion belt possiamo prendere anche wounded nickel potrei prendere i cavetti jumper cables che danno bloody recharge cioè mi si ricarica ogni volta che prendiamo un danno abbiamo charge baby quindi vuol dire che avremo un casino di ricarica per il nostro potere non è il massimo della vita ma almeno dovremmo far funzionare un po' la cosa infami ci aiuterà come sempre quindi adesso dovrei generare un macello di altri soldi se riusciamo anche a continuare ad accumularne tanto meglio insomma qua vediamo di andare da questa parte ci prendiamo robo baby non è 2.0 con il normale e andiamo allora ad affrontare il nostro nemico numero 1 tanto per terra ho lasciato un po' di monete ci mettiamo qua lontani dato che visto che ho usato il potere adesso spariamo un po' più velocemente è anche un po' più lontano che è l'altra cosa importante e Ash non dovrebbe essere essere un problema troppo grande la prima fase è andata adesso vediamo la seconda ma vista la quantità di proiettili che stiamo sparando a questa velocità non dovrebbe essere troppo difficile in più abbiamo The Soul che comunque è un'assicurazione per la vittoria niente male insomma visto che lui spara abbastanza lento e Soul riesce a deviare i colpi ci metteremo un po' probabilmente ecco l'unica è quella ma è quasi sicuro che vinceremo anche perché se mi spara le cose vedete che le mando via ci basta continuare a premere a sparare per tipo un altro quarto d'ora tranquillo vediamo un po' cosa riusciamo a combinare sono ancora abbastanza attivo in realtà sul canale Discord invece che potete trovare sempre in descrizione lì trovate un sacco di gente che segue il canale che parla un po' di video che parla anche di altri videogiochi insomma che si interessa di un po' di tutto e sono sempre fighi e fanno del loro meglio per accogliere la nuova gente e parlarne e chiacchierare del canale e tante altre cose oltre che a trovarsi anche per eventuali giochi multiplayer eccetera eccetera quindi c'è sempre posto là sul canale l'ho aperto per tutti per il canale insomma mi farebbe tanto piacere sentirvi anche lì continuiamo ad andare avanti cerchiamo di non beccare purtroppo sono abbastanza veloci i colpi che spara quindi questi sono un po' più difficili da deviare ma cerchiamo comunque di fare del nostro meglio ogni tanto la ricarica quindi avremo un sacco di energia per terra siamo più o meno a metà del nostro combattimento contro hash credo che la soluzione migliore sia registrare uno ogni tanto e non andare proprio di brutto registrare tutti quanti insieme in modo da stancarmi troppo e così ho anche più cose da dirvi che magari mi sono successo durante la giornata mi piace fare un po' di cose varie a proposito di questo posso parlarvi anche di un altro progetto uno dei miei tanti progetti ma una cosa che non c'entra in realtà con youtube o meglio deriva da youtube ma è un progetto esterno sapete che io sono un attore di teatro anche se fa un po' strano dirlo ogni volta faccio improvvisazione teatrale ormai da sette anni una cosa del genere e ho avuto un'idea ultimamente che sto cercando di portare avanti un progetto che sto cercando di portare avanti intanto uccidiamo hash che ha a che fare con la radio con l'improvvisazione radiofonica quindi sto lavorando anche a mettere su quella e quando avrò informazioni aggiuntive ve le farò sapere fondamentalmente perché per adesso non è che sia segreto ma semplicemente è in divenire quindi dobbiamo ancora fare prove eccetera ma sto prendendo contatti con persone con studi e registrazione e quant'altro per poter appunto trasmettere una radio una web radio per la precisione sull'improvvisazione teatrale è un progetto che mi piace molto come idea è piaciuto a tutti quelli che hanno collaborato con me appunto che stanno collaborato con me quindi mi farebbe molto molto piacere arrivare alla fine qui ho messo un attimo in pausa probabilmente perché era la pausa bagno quando ho registrato questo video ormai mesi e eoni ed ere geologiche fa e quindi insomma avete questo progetto nuovo che sicuramente quando avrò qualcosina visto che mi mi prende molta parte del tempo libero che ho a disposizione ve ne parlerò insomma all'interno dei video non so se vi può interessare ma se volete vedermi o sentirmi in altra veste in veste da attore insieme a quello per capire un po' quello che faccio insieme a altri attori e altri musicisti anche potete venirmi a sentire vi darò link tutto quanto a tempo debito in modo che potete venire a dire la vostra a prendermi in giro o semplicemente a dire che figata voglio farlo anch'io potreste anche farlo anche voi perché no tutti possono farlo vediamo pure di andare avanti e qua abbiamo una bella carta della giustizia che usiamo pure e ci riprendiamo la nostra full health va bene avrei bisogno di un'altra carta eventualmente per far funzionare bene tarot clot però anche così non è malaccio la situazione devo dire quindi andiamo pure avanti siamo scesi giù nel void quindi adesso abbiamo un po' di mostricciatoli da uccidere direi che per adesso ce la stiamo cavando molto bene con questa combo quindi non mi preoccupo più di tanto ma dobbiamo ancora affrontare il signor come si chiama il vostro finale oddio mi sono completamente dimenticato come si chiama quindi andremo saranno sorpresi a ritrovarlo si chiama delirium per la precisione ecco adesso mi è venuto in mente e poi effettivamente che non gioco e mi stavo anche dimenticando alcune cose devo dire che però è interessante sempre mi resterà sempre nel cuore questa cosa questo gioco fondamentalmente perché per tantissimo tempo sono stato semplicemente a sentirne parlare ma non l'avevo mai giocato c'è voluto un bel po' di tempo perché il panda mi convincesse a iniziare a giocarci effettivamente ha avuto un'ottima idea a consigliarmi questo tipo di gioco inizialmente ero molto molto scettico insomma di un gioco del genere però devo dire che mi ha rapito a partire dalle musiche fino ad arrivare alla storia il personaggio le grafiche insomma di tutto e di più è un gioco completo fondamentalmente e la cosa che mi ha fatto innamorare definitivamente secondo me del gioco è in realtà una cosa che non c'entra col gioco che è non c'entra strettamente col gioco che è il film Indie Game è un film molto interessante che trovate anche su Steam è uno dei pochi film pubblicizzati insomma su Steam però è un film molto molto bello e appunto parla dei giochi indie e si focalizza sullo sviluppo di Fezz che è un gioco molto interessante e su come è stato lo sviluppo di Super Meat Boy e di Isaac appunto con interviste ai creatori del gioco soprattutto Edmund McMillen e devo dire che mi ha fatto capire qual è il valore di di quanto è difficile sviluppare un gioco quanta passione c'è dentro e effettivamente che è una forma d'arte in tutto e per tutto e quindi è un altro modo per per arrivare a questa conclusione è stato giocare a questo gioco e vedere quanta attenzione c'è in particolari e quanto c'è anche in tutto quello che ha fatto Macmillan nel dire io ho fatto un gioco divertitevi col mio gioco che è secondo me una delle cose più fighe che si possa degli obiettivi più fighi che si riesca a fare abbiamo un satana come boss che ho sbagliato completamente il tempo ma dovrebbe essere relativamente facile visto che riempio lo schermo con le mie falci uno l'abbiamo fatto due l'abbiamo fatto e adesso vediamo la terza fase girare in giro attenzione a non prendere troppe botte devo dire che però siamo abbastanza ben messi abbiamo un casino di soldi effettivamente abbiamo anche la possibilità di prendere prendiamo un mama mega e la usiamo così ci da una mano con le varie stanze non ho preso del robe perché tanto il ceremonial robe è abbastanza inutile con keeper mi avrebbe dato solo un po' di 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 danno ma niente cuori e qualche mosca qua e la qua non l'abbiamo ucciso ma adesso vedrete che salterà fuori abbiamo recuperato altri 25 centesimi quindi siamo al massimo siamo arrivati al nostro dollaro qua potrei prendere book of blalial oppure prendere bob course prendiamo bob course che è un altro oggetto interessante che ci aiuterà vediamo di andare ancora avanti adesso le stanze dovrebbero essere facile a meno che non ci sono gente che vengono spawnate da altre persone qui avremo la possibilità di guadagnare ancora più soldi ma non lo facciamo non mi interessa più visto che siamo proprio al massimo quindi sto andando avanti come se non ci fossero domani e vediamo di andare al prossimo boss che è il signor gate a cui ciucciamo metà energia in un attimo qui abbiamo sacco of bombs e continuiamo ad avvicinarci una carta del sole mi fa vedere tutta la mappa adesso quindi possiamo vedere dove sono i vari bombs ce ne sono due qua eventualmente abbiamo la possibilità di trasferirci no quindi dobbiamo essere semplicemente fortunati a beccare il delirium alla fine se vogliamo stare attenti abbiamo preso la macchina dell'aga abbiamo preso la macchina dell'aga non mi sono neanche accorto infatti adesso vedo che alcuni dei proiettili che mi spara laggano ma è normale che faccia così visto che abbiamo proprio la macchina apposta ok ce l'abbiamo fatta qua abbiamo la possibilità di prenderci monstros long però non credo abbia anzi sarebbe abbastanza brutto mi sa utilizzarlo quindi non prendiamo niente abbiamo la possibilità eventualmente di prendere la chiave di papà ma non credo abbia anche lì senso visto che non c'è niente da aprire e vediamo di andare allora dagli altri boss ce ne sono ancora due uno è dritto sotto di noi e uno è dall'altra parte della mappa quindi direi di visitare prima il più vicino a noi che è qua sotto abbiamo la possibilità di andare nella stanza segreta che è questa ma non c'è niente interessante allora andiamo giù ad affrontare il prossimo boss davanti c'è a quanto pare questa è la prima stanza che viene spavonata nella dark room e il boss è daddy long legs quindi ci siamo lasciati il boss finale proprio per ultimo bobby bombs è un'altra aggiunta al nostro parco no ci sono ancora due boss uno è là in alto e uno è quello tutto a sinistra quindi sto andando probabilmente da quello prima di tutto dobbiamo andare in cima in cima in cima andare un po' a sinistra vediamo se troviamo adesso delirium oppure lo troveremo dopo allora qua a destra e adesso andiamo giù qua ci sono due boss il cuore di mamma che uccidiamo in un colpo qua abbiamo la possibilità di prendere contra from below e andiamo a combattere quello no perché l'abbiamo già combattuto quindi ci manca solo delirium adesso quindi vediamo di fare una bella corsetta verso di là quindi dobbiamo volare abbastanza per arrivare abbiamo il massimo del del dove sto andando il massimo dei soldi e non possiamo prenderne altri anche se non sto lasciando veramente veramente tanti di qua non c'è niente non so neanche perché sia andato da questa parte ma chi se ne frega andiamo su e andiamo dobbiamo andare in fondo a sinistra quindi forza e coraggio corri 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 topolino corri 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 nella notte corri di appiettifiato chi ti fermerà come dice una canzone dello zichino d'oro che ovviamente sto sentendo molto visto che hanno una figlia e quindi un sacco di canzoni dello zichino d'oro tutti i giorni vediamo di andare a sinistra come avete sentito sono molto contento del fondo di questo fatto no in realtà mi piacciono alcune canzoni dello zichino d'oro sono veramente veramente fighe e soprattutto ultimamente c'è una playlist di youtube con tutte le canzoni dello zichino d'oro con relativi cartoni animati e quando ero piccolo io questa cosa non esisteva quindi ho sempre sognato vedere il cartone di una delle canzoni mie preferite dello zichino d'oro e adesso ci sono oltre al fatto che ultimamente da un po' di anni in questa parte le canzoni dello zichino d'oro non sono neanche male in realtà come testi e come arrangiamenti anche se comunque vengono cantati tipo da un bambino e basta perché non c'è più quasi nessuno a parte il coro che partecipa una bambina in realtà e andiamo ad affrontare allora il nostro delirium con una doppia carta della forza tra l'altro quindi lo usiamo pure così diventiamo enormi enormissimi enormerrimi e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare contro il delirium quindi battaglia finale delirium si trasforma in un macello di cose visto che abbiamo affrontato 750 miliardi di nemici e vediamo un po' cosa riusciamo a fare siamo più grandi di lui tra l'altro visto che abbiamo la doppia la doppia carta della forza vediamo un po' cosa riusciamo a fare come energia non dovrebbe essere messi neanche tanto male visto che abbiamo l'abito abbiamo la possibilità di ricaricarci con charge baby abbiamo dry baby che ci danno a mano a far danno abbiamo veramente tanti metodi per poter far danno e poter recuperare insomma generare altre generare altre monete quindi direi che non è male come cosa siamo più o meno a mettere un terzo dell'eresia ancora e quindi vediamo un po' che cosa riusciamo a fare lui sta cambiando ancora sembianze se nella sua forma originale cioè quella di delirium non prende più danni come sapete ormai mentre se nelle altre forme è un po' è un po' difficile da capire qua quando è in questa forma qua è molto facile in realtà da affrontare le cose che mi preoccupano in più sono quando si mette a fare le cose a muoversi super velocemente soprattutto sotto terra il policefalo lo sai come si chiama ci dà un po' fastidio ma neanche troppo questo spara un casino di roba il piedone sempre da stare attenti questo non si muove più di tanto per fortuna quindi non dovrebbe neanche essere difficile quando si trasforma in hollow e un po' il resto cos'è anche il lag ci aiuta abbastanza quando è in questa forma qua vedete che prende sempre più danno del solito quindi facciamolo pure questo che genera 850 miliardi di colpi tutti quanti insieme quindi lasciamo pure stare si è tornato ad essere Isaac mi ha generato un macello di roba questo mi è sponato in faccia è sempre brutto a vedere quando mi fa questo effetto qua comincia a diventare abbastanza difficile con velocità e tutto ma cerchiamo di cavarcelo lo stesso poicino a 700 bpm siamo quasi all'ultimo quarto di energia ottimo che mi colpiscano drybaby che fa fuori tutti quanti i nemici più piccoli ed è che dovrebbe mancare poco sono quasi cerco di colpirlo addirittura da lontanissimo in modo da stare più tranquillo con i colpi che così non mi può beccare lui dai che ce la possiamo fare forte coraggio aia questo ha fatto male non ho anche possibilità di ricaricarmi per fortuna ho lasciato qualche moneta sparsa in giro dai che è ritornata nella forma normale ah si è trasformato di nuovo comincia a diventare difficile per fortuna ha ancora poca energia dai che ce la possiamo fare spacca tutto spacca spacca tutto dai che è diventato quello e ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta finalmente ce l'abbiamo fatta sono contentissimo di questa cosa perché non è facile affrontarlo con lui e abbiamo sbloccato anche una bella cosa bene 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 andiamo pure via e ci vediamo ad un altro episodio io vi ringrazio come sempre abbiamo sbloccato il crooked penny e finalmente abbiamo finito anche con lui quindi abbiamo un bel po' di uccisioni con tutti quanti e adesso anche con Keeper abbiamo finito tutto ciò che c'è da fare con Keeper quindi grazie ancora per la visione io sono Ace Brave Namaste e P-Prave e poi non è